Ti alzi e te ne vai così senza dirmi una parola, è possibile che non capisci? E' bella vero? Ma come l'hai te conciata? Scusa eh, ma è un spettacolo pittoso. Sei stata sgradevole. Cosa sei venuta a fare? Sono venuta a pranzo e stasera dormo qui. Tanto c'è la mia camera, no? Poi in casa mia non ci voglio più stare, non mi piace più. Quella casa va benissimo. Sei tu che sei viziata, pensi solo a te stessa. Io non sono viziata, sono triste. Per comprare quella casa e per tante altre cose. La cosa te lo dico a fare, a te non importa niente. Oh Angela, io ti voglio bene, te l'ho sempre voluto e non sai cosa darei per vederti più serena. Dove vai? Ti alzi e te ne vai così mentre ti parlo? Vado a rispondere al telefono. E non potresti dirmi scusa e mi vado a rispondere al telefono? Non capisci, non ti rendi conto? Di cosa Angela? Ti comporti come se io non esistessi. Ti alzi e te ne vai così senza dirmi una parola, è possibile che non capisci? Questo mi fa male. Voi dovete aiutarmi. Dovete chi? Io non so neanche di chi parli. Di voi, di tutti. Ci ha parlato? Sì, non ti preoccupare, stai tranquilla. Ti accompagno io domani. Ora dormi. Sì, non ti preoccupare. 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 Sì, non ti preoccupare.